Buonanotte a tutti. Per noi la World Cup era una buona esperienza. Un'esperienza dove si aveva la possibilità di subire il video gioco. Qualche volta facciamo, qualche volta non. Qualche giocatore approfittò meglio questa cosa, un'altra non. Mi sembra di riflessione che abbiamo di migliorare molte cose. Abbiamo di migliorare molte attitudini, abbiamo di migliorare. E per esempio per me l'equipo come l'Argentina, come il Giappone, che disputarono per me una buona World Cup. Con giocatori buoni sicuri, però non tutto per me con giocatori di massimo livello come primo, secondo o terzo posto. Però con attitudine, soprattutto con la più tecnica, per me è una competenza più forte. Quindi noi abbiamo di migliorare come esempio questo tipo di equipi, se vogliamo migliorare e aumentare il livello di gioco di noi. e per me è una competenza più forte. Grazie.